Il podcast che state ascoltando racconta i fatti che si svolgono nel dicembre del 1944 a Ivrea, quando il partigiano d'Artagnan, Amos Messori, al seguito del capitano Alimiro e al battaglione Fratelli Rosselli, compie uno degli atti di sabotaggio più eroici della resistenza, interrompendo le linee di rifornimento belliche nazifasciste e salvando così la città dal bombardamento alleato. Nel raccontarlo gli autori aprono uno spaccato sulla storia italiana e internazionale degli ultimi venti mesi del più sanguinario dei conflitti mondiali, quando strategie, errori umani, egoismi e follie, mandano a morire milioni di persone. Un podcast originale di Fabrica, ideato e realizzato da Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti. D'Artagnan, eroi comuni che fanno la storia. Attenzione, attenzione, intraspettiamo il seguito di dieci messaggi speciali, la messaggio è finita, il canto canta, tira vento.